Ma dietro questo abbraccio, che è un po' quello che tutti speravamo, c'è una tregua armata o c'è una pace duratura? No, 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 manca una parte fondamentale del racconto che era fuori in giardino, forse era il giorno dopo, o due o tre giorni dopo. Cosa è successo? Ci siamo parlati, ci siamo chiariti sull'accaduto e sui toni. Io gli ho detto le mie ragioni e continuo ad averle, nel senso che dopo un fatto del genere mi è difficile, ma mio come carattere, come persona, cancellare e dimenticare andare avanti, lui ha un carattere completamente diverso, per me le cose sono un po' diverse oggi. Diciamo che per te se qualche cosa si è incrinato è difficile che ritorni come prima, però questo non toglie che si possa ricominciare da capo a costruire qualche cosa altro. Assolutamente sì, certo, certo, certo. D'accordo, Alex? Io penso che ci siamo chiariti, appunto come diceva Aldo, il giorno dopo abbiamo fatto una bellissima chiacchierata fuori, ci siamo confrontati da uomini, toni giusti. Lui mi ha raccontato il suo modo di vedere, io gli ho raccontato il mio e nelle diversità, come dice appunto il nostro umano, è giusto che ci accettiamo in questo modo, è giusto che lui abbia i suoi tempi, io abbia i miei, ma non per questo, insomma, io, a me la sua vicinanza mancava e mi dispiace, insomma. Quindi tornerete a essere tra i moschettieri? Ma vediamo! Alco, vediamo! Grazie a tutti!